si fa sempre più accesa la diatriba tra selvaggia lucarelli e teo mammucari sin dall'inizio della nuova edizione di ballando con le stelle il comico e la giornalista sono stati protagonisti di battibecchi e ripicche reciproche quella che inizialmente sembrava essere una rivalità goliardica però ha ben presto dato spazio ad un clima decisamente nella puntata di sabato 18 novembre il comico ha continuato ad interrompere insistentemente selvaggia tanto che la giudice aveva deciso di non esprimere il suo giudizio in merito alla performance dopo essere stato rimproverato da alberto matano e rossella erra mammucari si era scusato dichiarando di aver esagerato tuttavia il pentimento del conduttore pare essere durato poco domenica 19 novembre ospite da mara venier teo è infatti tornato all'attacco verso la giuria di ballando con le stelle scagliandosi in particolar modo contro selvaggia lucarelli chiaramente alla giornalista non è affatto sfuggita dopo aver già espresso il suo punto di vista da francesca fialdini nel programma da noi a ruota libera selvaggia è tornata sull'argomento anche sui suoi social la lucarelli ha pubblicato diversi spezzoni dell'intervista sul suo profilo instagram ribattendo punto per punto a quanto detto dal comic in particolar modo la giornalista ha ripreso una dichiarazione del concorrente che ha parlato di un clima più disteso presente a tu sì che valesse rispetto a ballando con le stelle suo diretto competitor a tal proposito selvaggia ha sbugiardato il presentatore condividendo dei vecchi articoli che sottolineavano una relazione ostile tra il programma di maria de filippi e mammucari